in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini, Figline Valdarno Ben ritrovati, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in mezzo ai libri e in mezzo ai libri siamo tornati perché con questa puntata inizia una nuova stagione di Word, il gusto della parola che cosa c'è di novità? Niente ci sono sempre i miei racconti ci sono sempre il salottino con quindi il nostro piccolo salottino letterario ma ci sono due nuove lettrici che dopo avrò modo di presentarvi ci piace tanto questa trasmissione ma anche a voi piace perché insomma tutte le volte che riniziamo e riniziamo poi andiamo avanti lungo tutta la stagione mi fermate per chiedermi informazioni per chiedermi curiosità e quindi siamo tornati con vero piacere da parte mia di stare ancora una volta insieme a voi e inizio con un libro bellino, 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 bellino che è questo che ho in mano di Luigi Garlando quando la luna ero io allora precisiamo subito è un libro per ragazzi un libro per ragazzi consigliato dagli 11 anni in su e io nell'in su in quel su mi ci metto io e ci metto anche tutti voi che non avete più 11 anni perché è un libro di quelli che fa bene al cuore allora siamo ho degli appunti perché ci sono tutta una serie di nomi non voglio sbagliare i propri nomi siamo nel 1969 quando l'uomo va per la prima volta sulla luna c'è proprio la prima spedizione nello spazio l'Apollo 11 è in volo ma sulla terra ci sono delle persone particolarissime c'è la nonna Rebecca che è una ex astrofisica che vive in una casa solitaria in cima alla collina in cima a una collina ci sono i suoi nipoti la nipotina Libera e i suoi amichetti Pio Elia e Sotero e la nonna Rebecca impartisce loro tutta una serie di lezioni tutta una serie di informazioni che li prepari al grande evento e loro sono talmente coinvolti in questi in questi racconti tanto da impersonificare i personaggi infatti Elia interpreta nell'Amstrong ovvero il primo uomo che proprio metterà piede sulla luna mentre Sotero è Booth Aldrin il secondo è quello che seguirà Armstrong sul corpo celeste e mentre Pio è Michael Collins che sarà colui che rimane alla guida del modulo lunare e la Libera vi chiederete voi Libera è niente di meno che la luna cioè interpreta proprio la luna fra l'altro nonna Rebecca ha un un grande obiettivo un obiettivo comune è quello di un obiettivo fra l'altro ambizioso che è quello di preparare tutto il paesino di Sant'Elia del Fuoco a questa avventura del secolo e d'altronde chi se non una cosiddetta strega perché quello che poi pensano di nonna Rebecca è questo pensano che sia una strega se non proprio la strega che abita in questa località che si chiama La Bruciata può fare questo tipo di cosa ovvero preparare un intero paesino all'evento più importante di quell'anno del 1969 e allora eccolo qui Luigi Garlando è edito da Solferino quando la luce ero io il costo di questo libro è di 15 euro e adesso adesso andiamo a conoscere il nostro primo autore l'autore di questa prima puntata di questa nuova edizione di Word il gusto della parola e allora il primo autore di questa nuova stagione è come da parte mia non essere più contento perché non trovo solo un autore trovo soprattutto un amico ciao Fabio Filippo Boni ciao Filippo e allora Filippo qualcuno si si stupirà perché l'ultima volta che magari ti hanno visto sui nostri teleschermi ti hanno visto leggere il telegiornale e invece poi Filippo è sparito non è che è sparito ha preso altre decisioni di vita ma in queste decisioni fra l'altro hai trovato un canale tutto tuo e sei diventato autore e la domanda mi sorge spontanea come si fa a diventare scrittori? ma allora intanto tutto come credo per tutte le cose è mosso dalla passione la passione che muove il mondo non muove soltanto gli esseri umani muove anche gli altri esseri viventi muove la terra e dall'altra parte dall'energia da sempre ho avuto una passione per la scrittura e anche per la ricerca tant'è che scusa se ti interrompo prima di questo di cui parleremo però più ampiamente la prossima volta gli eroi di Viafani tu avevi già ti eri già dedicato e dilettato con la scrittura però non eri andato a pensare di andare in libreria vendite questo libro ha avuto un grosso successo ne hanno parlato ovunque anche in Rai sì sì assolutamente sì fino agli eroi di Viafani pubblicato pochi mesi fa mi ero dedicato alla ricerca storica prettamente del nostro territorio della regione toscana e soprattutto del Val d'Arno e della terra nella quale viviamo avevo pubblicato altri libri in particolare l'attenzione mia si era focalizzata sulle stragi naziste del nostro territorio la ritirata aggressiva dei tedeschi della Wehrmacht durante il 1944 e alcune pubblicazioni che ricostruivano le terribili stragi che l'esercito appunto nazista aveva compiuto nel nostro territorio in particolare nel comune di Cavriglia dove io vivo pensate 192 vittime in appena pochi minuti nel 4 drammatico giorno 4 luglio 1944 è da quegli anni di quelle ricerche era metà anni 2000 che è nata fondamentalmente la mia passione per la ricerca poi si è tramutata in passione per la scrittura per la lettura e che ha portato dopo molti anni agli eroi di Viafani che sensazione lascia il fatto di scrivere e di sapere che poi quello che ti hai scritto viene letto da persone che assolutamente non conosci ma allora trasmette una sensazione molto grande anche molto misteriosa per certi aspetti perché i tuoi sentimenti dall'altra parte il tuo sentire le tue emozioni che poi diventano parole scritte diventano carta stampata entrano nelle anime altrui e quindi tu ti senti in qualche modo la responsabilità addosso di trasmettere determinate emozioni con un determinato senso una determinata forza dall'altra parte però se surrogate da una ricerca storica hai anche il dovere di essere uno scienziato fra virgolette molto oggettivo e nel contempo anche dover trasmettere una storia che tutti potrebbero raccontare a prescindere dal pensiero che ognuno di noi ha quindi anche la responsabilità è maggiore tra te e chi mi scrive un giallo piuttosto che un racconto fantasy sicuramente per qualsiasi ricercatore quando il ricercatore pubblica una sua ricerca un suo scritto è ovvio che ha il dovere di attenersi alla scienza e quindi per tutto quello che può per i mezzi che ha a disposizione deve essere il più possibile oggettivo e nel contempo trasmettere un'informazione il più corretta possibile è ovvio può sbagliare come ogni essere umano però è naturale c'è una doppia responsabilità senti Filippo dato che sei un ragazzo giovane e tanti ragazzi come te magari possono avere l'ambizione la velleità che consigli dai a chi si vuole approcciare alla scrittura allora grazie per il giovane anche se ormai ho abbandonato forse il ragazzo diciamo da qualche anno infatti ho detto giovane e non ragazzo infatti poi oggi si è giovane si è giovane uomo si è giovane dentro diciamo fino a che si può o si cerca di esserlo allora dunque intanto con tutta l'umiltà possibile perché non mi sento nessuno anzi non sono nessuno e quindi mi sento semplicemente di dare dei consigli il primo è a prescindere da che si voglia scrivere o meno questo è un consiglio allargato è leggere leggere aiuta ad aprire la mente aiuta a viaggiare senza bisogno di spostarsi o di spendere tanti soldi leggere aiuta l'anima aiuta il cuore aiuta a essere uomini migliori aiuta a farsi anche delle idee più oggettive più oggettive di quello che accade nel mondo insomma leggere è fondamentale è fondamentale per tutti nel contempo per chi poi da leggere e io mi auguro che si inizia a scrivere solo dopo aver letto molto perché iniziare a scrivere prima di leggere è un po' pericoloso ecco per chi dopo aver letto molto inizia a scrivere ci vuole molta pazienza bisogna dedicarsi molto nel tempo libero c'è chi gioca a calcio chi fa sport chi si dedica al volontariato ecco chi scrive deve nel tempo libero chiudersi in una stanza e fare molto esercizio prima di aprire la porta e dire ho scritto qualcosa che possa entrare negli animi altrui quindi il mio consiglio base è quello prima di leggere e poi di fare moltissima attenzione a ciò che si scrive perché è molto meglio mirare quando si scrive alla qualità credo che ha la quantità sia per chi scrive sia soprattutto poi per chi dovrà leggere e penso soprattutto di non dover scrivere con l'idea subito di dover vendere e di avere subito una casa editrice importante come anche nel tuo caso perché se si cioè non vorrei che la scrittura poi traboccasse nel banale guarda ti racconto che parlando con con gli editor della casa editrice della Longanesi spesso mi hanno raccontato che sono moltissimi i romanzi ma anche i saggi che arrivano da chi si cimenta per la prima volta nella scrittura e pensate le percentuali di chi riesce a pubblicare un suo primo scritto con la prima casa editrice una casa editrice nazionale sono pazzesche tipo quelle di chi vince al Suprena Lotto cioè uno tipo su 200.000 sono numeri anche 300.000 numeri pazzeschi perché perché ovviamente a volte si può imbattersi nel genio è rarissimo come appunto vince dal Suprena Lotto la maggior parte delle volte questo è quello che appunto sostengono le grandi case editrici purtroppo ci si imbatte in chi non conosce e quindi scrive e poi spedisce facendo perdere molto tempo magari agli editor nel leggere ma sono cose che non sono pubblicabili serve un grande esercizio è una grande diciamo esperienza anche perché pubblicare con le piccole case editrici e avviare un percorso che magari dura anche 20 anni che porta alla pubblicazione con una grande casa editrici significa avere umiltà significa avere piena consapevolezza del mezzo e poi magari avere più chance quando si spedisce il nostro scritto a una grande casa editrice va bene e allora gli eroi di via Fani noi ne parleremo ampiamente e in maniera approfondita nella prossima puntata sempre insieme a Filippo grazie Fabio grazie a tutti voi e come vi avevo preannunciato proprio in apertura di questa nuova serie di questa prima puntata è la nuova serie di Word il gusto della parola la vera novità inizia adesso il salottino non è quella la novità lo sapete ormai c'era dall'anno scorso ma la novità sono le mie due nuove lettrici che vengo subito a presentarvi ovviamente siamo sempre in collaborazione con liceo linguistico Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno da alla mia destra ho Clara ciao Clara ciao mentre alla mia sinistra ho Camilla ciao Camilla ciao io non so perché ma in questa scuola sono tutte belle belle cioè ogni anno abbiamo avuto lettrici una più bella dell'altra allora conosciamole poi tanto le conosceremo meglio durante la serata allora Clara quanti anni hai? 17 17 mentre Camilla 17 17 basta non c'è altro da conoscere ma cioè ritroviamo ovviamente presente nel salottino come sempre Beatrice ciao Beatrice ciao buonasera a tutti Beatrice è una delle ragazze cioè l'unica ragazza dei ragazzi della libreria voi sapete no che per me sono i ragazzi coloro che mi consigliano i libri da leggere in questa durante le varie puntate allora partiamo subito così poi conosciamo meglio pian pianino anche proprio parlandoci le ragazze e cominciamo il nostro salottino con un libro particolare un libro di Rossella Postorino e questo libro è particolare per cosa? perché l'autrice è venuto in mente di andare di scrivere questo libro dopo che aveva letto un articolo un articolo su una certa Margot Walk chi era? era l'ultima assaggiatrice vivente di Adolf Hitler ora poi loro vi spiegheranno meglio perché assaggiatrice che cosa è successo? lei si appassiona a questa scritta a questa persona cerca il suo indirizzo ma quando arriva a Berlino ahimè la trova già morta quindi lei non riesce a parlare con questa signora non sa niente della storia vera di questa signora eppure leggendo il libro vedrete come in realtà storia e finzione si alternino fondendosi in un'unica cosa ho detto bene Camilla? si hai detto molto bene infatti il libro è molto carismateo per quanto riguarda la creazione stessa del personaggio perché è un personaggio che viene visto a tutto tondo nonostante sia frutto della pena della scrittrice sembra quasi un personaggio in carne ed ossa la protagonista si chiama Rosa Sauer fallo vedere aspetta guarda te lo tengo io te lo tieni te così sei emozionata almeno non ti tremano le mani è una ragazza di Berlino che fugge dalla città per salvarsi dai bombardamenti della guerra e si rifugia in campagna in un paesino chiamato Gross Pasch dai suoceri mentre il marito Gregor è al fronte questo paesino ha la particolarità di essere vicino a una delle basi segrete di Hitler nascosta nei boschi che veniva chiamata appunto per la sua ubicazione la Tana del Lupo un giorno che sembra un giorno normalissimo Rosa viene contattata dalle SS è stata reclutata per essere scelta a lavorare come assaggiatrice di Hitler questo vuol dire che avrebbe avuto tre pasti i tre pasti che poi sarebbero stati serviti al Führer avrebbe dovuto assaggiarli cioè mangiarli e poi questo avrebbe portato a vedere se erano avvelenati oppure no quindi se avesse salvato la vita del Führer oppure no questo fa vedere un po' il lato nascosto di Hitler perché è sempre stato visto come una figura un'entità quasi in realtà in questo libro viene scoperto il suo lato umano perché alla fine è un uomo come tutti che mangia addirittura non mangia carne e ha anche problemi di intestino a volte quindi viene appunto scoperto il suo lato umano il suo lato nascosto è anche molto bello il rapporto che Rosa crea con le altre ragazze che fanno lo suo stesso lavoro le altre assaggiatrici ci sono conflitti passioni amicizie e si scopre molto del suo passato del periodo in cui viveva a Berlino e anche della sua relazione con il marito Beatrice hai da aggiungere altro sulla trama o vuoi passare direttamente al perché leggere questo libro allora sì la trama l'ha descritta benissimo Camilla quindi non aggiungerei altro il perché ho proposto questo libro perché ovviamente mi ha colpito e mi ha lasciato qualcosa come sai io mi concentro molto sempre anche sullo stile e l'ho trovato uno stile molto bello semplice scorrevole e allo stesso tempo con delle immagini anche particolari quello che mi ha colpito oltre lo stile è un po' il filo conduttore del libro che è appunto molto nel rapporto fra queste donne e ci sono leggendo un po' anche le recensioni di altri ho trovato due punti che mi hanno che ho trovato interessanti uno il discorso della corporalità che fa da filo conduttore in tutto il libro in quanto appunto il discorso del mangiare la digestione e la reazione che poi i corpi hanno a questi cibi certo e e anche il rapporto dei vari corpi fra loro il convivere in uno spazio stretto il dividere determinati ambienti quindi il corpo è uno dei protagonisti del libro come la colpa il senso di colpa con cui convivono queste donne in quanto da una parte loro sono delle privilegiate perché mangiano in un momento in cui per tanti il mangiare è un'utopia e allo stesso tempo però questo mangiare può rivelarsi fatale e quindi da una parte questo e poi con l'andare avanti nel libro cosa che non svelerò adesso certamente no c'è anche il rapporto della protagonista con certe sue colpe del presente del passato il rapporto con i genitori quindi tanti temi tanto materiale da gustare da approfondire ora prima Camilla ha detto viene fuori il lato umano di Hitler io più il lato umano direi viene fuori l'uomo perché di umano probabilmente quella persona quel signore ha avuto ben poco però in questo libro esce fuori l'uomo quindi l'uomo fisico l'uomo corporale come diceva anche Beatrice quindi perché leggerlo perché innanzitutto si parla di un periodo storico di cui indubbiamente non si parla mai abbastanza e c'è veramente tanto dentro questo libro io oserei dire che è imperdibile poi fate voi venite sapete ormai la parola dove è in Corso Mazzini a Figline Valdarno gli date un'occhiata perché nessuno ve lo toglierà di mano se andate a leggere il retro di copertina il risvolto di copertina o anche la prima pagina e decidete voi per noi è un libro veramente da leggere e allora il libro lo vedete qui inquadrato è edito per la Feltrinelli l'autrice è Rossella Pastorino il suo costo è 17 euro ovviamente le assaggiatri e adesso torno invece io qui nel mio angolo dedicato ai racconti dei libri che i ragazzi della libreria la parola mi hanno consigliato con un libro di Don Paolo Aliata dove Dio respira di nascosto tra le pagine dei grandi classici questo è il sottotitolo ed è proprio dal sottotitolo che che si dovrebbe capire dove Dio respira di nascosto secondo Don Aliata Dio il messaggio di Dio soprattutto oggi nei tempi moderni lo possiamo ritrovare ovunque lo possiamo ritrovare nelle pagine di un libro nelle pagine di un grande classico quindi parliamo di autori greci autori romani autori tedeschi lo possiamo trovare in uno spezzone di un film lo possiamo trovare in una canzone lo possiamo trovare addirittura in un cartone animato tutto questo è il messaggio di Dio che oggi va ricercato in posti diversi da quelli da quelli in cui eravamo abituati a cercarlo ovvero la sola Bibbia e i soli Vangeli il messaggio di Dio è ovunque ed è universale secondo Don Paolo Aliata lo possiamo trovare nei luoghi nascosti dove Dio respira di nascosto per le edizioni Ponte Alle Grazie il costo è di 14 euro e adesso torniamo nell'angolo del salotto per l'ultimo libro del nostro salottino e rieccoci al nuovo salottino e abbiamo ritrovato dopo insomma un'assenza notevole insomma tutta l'estate che non ci vediamo ritroviamo Samuele ciao Samuele ciao buongiorno come sempre Camilla e Clara allora di chi parliamo adesso prima sono contento sempre però ve lo faccio vedere dopo perché prima voglio leggervi proprio tre righe di che mi sono segnato si chiedeva se le cicatrici di quelle colpe se ne sarebbero mai andate erano ancora lì e ogni tanto i punti saltavano e ricominciavano a sanguinare per quanto tempo si chiedeva c'era un giorno una data certa in cui il dolore finalmente si attenua ma una risposta ancora non l'aveva trovata stiamo parlando di Rocco Schiavone e quindi stiamo parlando di Casa Sellerio voi sapete ormai che Casa Sellerio è la mia casa editrice preferita e quindi se parliamo di Rocco Schiavone parliamo di Antonio Manzini con il suo nuovo romanzo giallo fate il vostro gioco Samuele fra l'altro insomma ultimamente il vice questore Schiavone lo vediamo spesso in televisione perché sono stati tratti è stata tratta una serie da questo filone di Manzini è diventato molto popolare si l'era già prima però secondo me Marco Giallini è proprio la figura è proprio Rocco Schiavone di tutte le trasposizioni che hanno fatto forse quella di Schiavone è una delle più riuscite di quelle riuscite meglio senti di cosa parla fin dove si può parlare ovviamente di questo libro perché essendo un giallo essendo un giallo però come tutti i gialli Sellerio il giallo è solo la è il contorno è il contorno sì non è la cosa importante questo succede sia per Manzini che per per tutta questa letteratura per Malvaldi per Malvaldi infatti una cosa secondo me molto bella che fa la Sellerio che fanno questi autori è anche di citarsi l'uno con l'altro cioè Schiavone appare anche in alcuni romanzi di Malvaldi soprattutto appare anche in uno di Camilleri Camilleri è stato maestro di Manzini Sellerio alla fine oltre che casa editrice è veramente una grande famiglia dove gli autori sono perlomeno sembra quello che traspare questo sono realmente amici fra di loro ora io probabilmente Camilleri è un po' sopra tutti poi insomma però ho diventato cieco quindi ovviamente non farà combricola con gli altri però io me l'immagino veramente a mangiare insieme questi autori e qui appunto si parte lo sfondo è un'avventura legata al gioco d'azzardo però ecco diciamo che in questa avventura qui più che altro in questo romanzo qui si continua a delineare la figura di Rocco Schiavone appunto come dicevamo prima il giallo è solo il pretesto per cui con cui lanciare una nuova idea di questo romanzo e con cui continuare a tracciare la figura di questo personaggio che come tutti sanno appunto è romano ma trapiantato non per volere suo ma per una storia vecchia di prima insomma che uscisse il suo primo romanzo e poi dopo invece è stata spiegata con gli anni si è capita cosa aveva fatto aveva dato noia a un politico quindi viene mandato in Val d'Aosta e qui appunto c'è questa nuova puntata in cui lui continua diciamo così a si continua a le sue avventure ma più che altro si continua a capire come è il personaggio e anzi anche qui c'è un finale che rimane un po' un po' sospeso e ci lascia capire che a breve arriverà una nuova una nuova avventura sì per ora non lo posso dire ma insomma lascia le ultime pagine un finale un po' aperto insomma non finisce un po' molto aperto diciamo che tutto parte da un morto che parla come viene un morto parlante come viene definito perché viene ritrovata appunto questa persona che lavora che fa il croupier all'interno di un casino e viene ritrovato con delle fiche ma di un altro casino tutto parte da tutto si svolge da parte da questo come diceva come diceva Samuele è un po' quello io in parallelo ritrovo molto anche i bastardi di Pizzo Falcone anche in questo caso molto promossi dalla televisione però come succede per Schiavone che il romanzo dopo romanzo si conosce sempre meglio il protagonista così anche nei bastardi romanzo dopo romanzo si approfondiscono i vari perché lì sono più di uno e allora come sempre noi quando si parla di Cassa Sellerio io vi dico sempre è comodissima è bellissima perché vi entra tranquillamente in tasca un libro che può viaggiare con voi dalla mattina alla sera se siete dei pendolari ve lo leggete in treno se invece non siete pendolari però avete la pausa pranzo ve lo potete leggere mentre fate la vostra pausa pranzo proprio perché non ingombra Antonio Manzini fate il vostro gioco edizioni Sellerio Editore Palermo il costo è di 15 euro terminano qui i saluttini per questa puntata ora io a voi vi saluto quindi ciao Clara ciao Camilla ciao 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 Samuele loro li lascio voi venite con me perché prima di salutarci in maniera definitiva facciamo il consueto riepilogo ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. In collaborazione con Libreria La Parola Un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini Figline Valdarno Grazie a tutti. Grazie a tutti.